Richieste inascoltate dalle istituzioni, solo un controllo una volta è la promessa di un intervento parziale. È la piccola odissea che una trentina di famiglie in strada a Canestrelle tra lo Stagio San Nicola e strada Torre Tresca stanno vivendo da due anni a causa di un albero che incombe su una casa e l'unica stradina che permette di accedere ai caseggiati. Per loro l'arbusto è pericolante, il cemento rotto delle barriere stradali lo testimonia. Un pericolo imminente, io dico che da un momento all'altro questo albero può crollare. Le radici stanno convogliendo sotto la pavimentazione dove c'è gas, luce e fogna. La chioma dell'albero ha inglobato i fili dell'Enel, dei telefoni, dell'internet. La richiesta è almeno quella di potare i rami così da liberare i cavi elettrici dalla loro morsa. In tutti questi anni sono venuti i vigili del fuoco, i vigili urbani, addirittura hanno chiamato un agronomo e ci promessi, vi assicuro che l'albero non può cadere, però vi prometto che lo potremo. Perché è sotto controllo, sotto controllo di che cosa? Richieste in ascoltate che ora si trasformano in raccolta firme da presentare al comune e richiamare l'attenzione alle istituzioni. Abbiamo interpellato un avvocato dove ci sta preparando una carta dove filmeremo tutti i residenti di questa zona qua perché vogliamo che quest'albero sia sistemato una volta per tutte.